Musica Visita istituzionale del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell'assessore ai cimiteri Ciro Borriello in occasione della tradizionale giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. I luoghi simbolici per la cerimonia di deposizione di cuscini di fiori sono quelli della Cappella 11 Fiori del Melarancio, la Cappella del Presidente Giovanni Leone e quella di Annalisa Durante, tutti al cimitero nuovissimo di Poggio Reale, oltre alla Cappella del Presidente Enrico De Nicola al cimitero monumentale di Poggio Reale. Ha un legame fortissimo che c'è da sempre tra la città di Napoli dei vivi e di quelli che non ci sono più. Napoli, ancora più di altre città, ha questo legame fortissimo con i nostri cari. Qua si vede per tutto l'anno, ma in particolare in questo ponte c'è stata un'affluenza enorme, mi sembra che è andato tutto bene, siamo contenti che ci sia stata almeno tranquillità dalle parti delle persone che sono venute qui.